Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPI Liber, lavori di manutenzione al viadotto del Turbone, possibili disagi in entrambe le direzioni tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino. Sulla statale 1 Aurelia, all'altezza del chilometro 283, corsia di marcia in direzione sud chiusa tra Rosignano e Cecina Nord. La viabilità cittadina a Firenze, oggi al via, i lavori in via Aretina Nuova, fino al 16 giugno di vieti di transito e restringimenti di carreggiata. Buoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!